Grand Neces è un'azienda situata nel nord-est dell'Italia, produttrice di sedie e sgabelli professionali, presente sul mercato sin dai primi anni 60. Il nostro core business oggi comprende tre principali divisioni di prodotti, poltrone e serie ergonomiche per l'ufficio, sale d'attesa e collettività, sgabelli professionali per laboratori e sedie da lavoro. Infine, la nostra punta di diamante è la divisione Graf ESD, una speciale linea di sedute antistatiche dedicata al mondo dell'industria elettronica. Tutte le nostre fasi produttive vengono effettuate interamente in Italia, utilizzando tecniche e strumenti avanzati. Ogni lavorazione viene eseguita con i giusti tempi, in modo preciso ed accurato, utilizzando materiali eco-compatibili ed estremamente resistenti. Tutti i prodotti Grand Neces si distinguono per la loro perfezione tecnica, qualità senza compromessi, un design semplice ma attento all'ergonomia. Per noi tutto ruota attorno alla persona e all'ambiente di lavoro. Grazie. 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 Grazie.